Da tempo il mondo appare come un luogo poco vivibile, quasi sgradevole. In molti in questo mondo sono a disagio. Da tempo il mondo appare attraversato da tensioni, conflitti, insicurezze, incertezze. Un mondo che non piace, che non piace ai giovani, che non piace agli adulti. Direbbe Cesare Pavese, in questo mondo l'esperanza tace. Per questo sembra importante che il Papa oggi nel suo ciclo dedicato alle Catechesi dell'esperanza si sia soffermato su questo punto, cioè la speranza. Per dirci innanzitutto che l'esperanza vera è quella ancorata alla persona di Cristo, perché l'esperanza è sicura e che non delude. Però per dirci anche che l'esperanza è una virtù umana, una grande virtù della bontà di ciascuno di noi. Chi spera è capace di vedere l'invisibile, chi spera è capace di toccare l'intangibile, chi spera è capace di raggiungere l'impossibile.